Sara Cinesca abbassata e negozi chiusi è la brutta notizia che da stamane è interessato il lavoratore di Mercatone 1 dopo che ieri il Tribunale di Milano ha decretato il fallimento della società già in concordato preventivo. Come per tutti gli altri punti vendita in Italia, attività lavorativa sospesa anche negli store di Scerne di Pineto, Colonnello e Sambuceto dove sono impiegate circa 100 persone. Tanta la rabbia dei dipendenti che si è sommata a quella dei clienti che si erano recati nei punti vendita per ritirare la merce acquistata nei giorni scorsi. Sul posto anche i sindacati per un presidio a sostegno dei lavoratori. Una situazione difficile che il prossimo 30 maggio sarà al centro di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Siamo di male in peggio. Purtroppo ieri sera sul Tardi ci è arrivata notizia sui social, nemmeno ufficiali, del fallimento della Mercatone 1. Di Scerne di Pineto, ma parliamo delle mercatone di tutta Italia e quelle che seguo io di Sambuceto, San Giovanni Teatino e anche di Colonnella. È un problema sociale perché siamo già in una zona dove il lavoro ce n'è poco e è preoccupante. È preoccupante perché non c'è stata notizia. Anzi, aggiungo che il dottor Rigone, che si definisce dottore titolare della Sherlon Holding Mercatone 1, rassicurava i lavoratori con delle mail dicendo di stare tranquilli. Il 30 avremmo dovuto avere un incontro presso il Ministero perché era inconcordato per trovare una soluzione. Invece abbiamo trovato la sorpresa della chiusura per fallimento. È arrivata una comunicazione a tutti i direttori dicendo che non dovevano fare entrare il lavoratore nei negozi, esclusivamente per gli effetti personali, che il negozio era chiuso e di non mettere nessun tipo di comunicazione per fallimento. Cosa disdicevole. Noi ci siamo già attivati da questa mattina e proseguiremo la giornata di domani e di domenica, faremo delle dimostrazioni, manifestazioni, interesseremo la politica ed è ora che la politica riprende in mano questa situazione. Ovviamente è stata una tegola in testa, un'ulteriore tegola in testa, perché noi veniamo da un'amministrazione straordinaria già da tre anni, quindi per tre anni siamo stati tutelati, credevamo di essere stati tutelati dallo Stato, i quali ci avevano promesso di tutelare tutti i posti di lavoro e questo non è avvenuto, perché l'anno scorso quando ha subentrato la Sherdon Holding ha fatto la prima scrematura dei dipendenti, più di 1200 dipendenti sono andata a casa e io sono una di quelle che poi sono rientrata con contratti a tempo determinato, che a breve mi scaderà.